Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Allora, oggi è uscito il nuovo MV degli Astro Dopo tantissimo sono tornati, oh mio Dio La canzone si intitola Always You E niente, ho deciso di fare la reaction perché non potevano fare la reaction con gli astro meravigliosi Sta morrendo di caldo qua dentro quindi probabilmente con questo video morirò ancora più di caldo Ma non importa Quindi, 3, 2, 1, via Aspetta Già sono cieca Oh mio Dio So già che sarà completamente uno stile nuovo Oh mio Dio, sei bellissimo No basta, sta mania delle piante dentro le macchine Oh mio Dio Porca boia, è biondo Oh porca miseria Sama Beccolino, beccolino, cosa? Oh, non sto colore? Ma no, cosa sto colore bellissimo? Sono bellissimi Allora, guardi No, cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? È completamente diverso dal solito Oh mio Dio Oh mio Dio Sono... Ma questa sta fenda Sono... Questo è piante in macchina perché... No ma sei tanta roba con questi cavilli Adoro Adoro! Potresti stare male? Ma cosa? Ma non la cosa è... La cosa è bellissima! Ciao, i primi di un buco! E' una cosa stupenda! Questa canzone è una cosa stupenda! Affediamo queste cose! Ma che figata è sta canzone! Ma questo è nudissimo! Che non va bene! Ma è una cosa stupenda! E' una cosa stupenda! E' una cosa stupenda! E' una cosa stupenda! No gapsa, ma è una cosa stupenda! E' una cosa stupenda! Oddio Maria Santa Ma cosa? È la cosa più bella che abbiamo mai visto Ma sono bellissimi Ma che si aspettava una canzone del genere Ma una canzone Adesso Batticchiare mi ci sa lunga Perché è una canzone del genere? No È bellissima Voglio impararmela con le gravi di questa cosa No è una cosa stupenda Cioè cosa caspita posso dire? Cioè amore mio bellissima Calmati Evito di fare quelle facce Perché evitiamo Ma sono tutte bellissime Bumbin Sana Ero un cucciolino Perché Cosa è successo? No No Sono sconvolta da questa cosa Ma sono tutti meravigliosi Oh mio dio Che belli Bene Il video è finito Se vi è piaciuto Lasciate un like E fatemi sapere qui sotto Se seguite il gastro Se li stalkerate Da qualche parte E se vi è piaciuta questa canzone Perché non mi aspettavo una canzone del genere Cioè no Quindi Fatemi sapere tutto qui sotto E basta Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao